Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco e io Jed. Oggi faremo un piccolo upgrade alla mia moto. Allora, monteremo un faro che al suo interno ha le frecce sulla nostra Harley Davidson. Ciao! Sei mai andato sicuro che era attestato pure a me la moto? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! L'unica cosa che abbiamo riscontrato su questo faro è che manca un tappo di gomma per isolare i fili che usciranno, altrimenti rimane così aperto e devo dire che non è proprio il massimo. Quindi andremo a risolvere questo problema con una copertura di gomma di un vecchio allarme che andremo a mettere qui e più o meno andrà a isolare i fili. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!